piazza della libertà nuovo episodio del podcast che immagino sia il vostro preferito e questa mattina perché stiamo registrando di mattina oggi è 6 giugno 2019 diamo un'occhiata ai giornali dopo aver parlato ovviamente dell'ultima idea dell'ultima suggestione quella relativa a Buffon per la Lazio ora si torna a parlare di trattative un pochino più meno così fantascientifiche ma un pochino più pratiche e ovviamente si parla dell'esterno che è l'obiettivo forse numero uno in questo momento da parte di Lotito cominciamo con i giornali e iniziamo proprio dalla gazzetta dello sport l'articolo è di Stefano Ceri l'inviato sulla Lazio il titolo il suo pezzo è Lazio Ioni per volare sulle ali pronto il rinnovo di Luis Alberto il club di Lotito vicino all'aterale dell'Alaves prolungamento in arrivo per il centrocampista il nome nuovo arriva dalla Spagna dove negli ultimi anni il DS Tare ha sempre pescato bene la Lazio e sulle tracce dell'esterno spagnolo Ioni l'ultima stagione con l'Alaves in Liga Stefano Ceri quindi parla e conferma le voci su questo su questo giocatore intanto andiamo direttamente sulla parte dedicata a Luis Alberto che in questo momento è in vacanza in Spagna un'intesa di massima quella con con Luis Alberto che ancora però non è sicura infatti Luis Alberto in realtà non è sicuro che rimangera Lazio essendo uno di quei giocatori scrive Stefano Ceri per i quali il club non è escluso la cessione ma tra lui e Milinkovic l'altro big che non sarà facile trattenere potrebbe essere il sacrificato Luis Alberto quindi una richiesta in tal senso è stata fatta dallo stesso Inzaghi al quale Luis Alberto è molto legato le possibilità che il fantasista resti quindi sono piuttosto elevate dice l'articolo della Gazzetta ma per evitare che il calciatore andaluso possa essere vittima di qualche mal di pancia ecco che il rinnovo contrattuale diventa decisivo attualmente Luis Alberto guadagna una cifra vicina ai 2 milioni il suo ingaggio potrebbe salire fino ai 2 milioni e mezzo una somma vicina a quella di Immobile Milinkovic e Leiva che sono i giocatori che a Formello hanno lo stipendio più alto la trattativa per il rinnovo è già stata avviata è destinata ad andare a buon fine a meno che da qualche altro club non arrivi in offerta di quelle che fanno vacillare ma al momento si tratta di un'ipotesi alquanto e questo era l'articolo di Stefano Ceri un estratto dell'articolo di Stefano Ceri che troverete ovviamente in edicola con la Gazzetta dello Sport passiamo al messaggero messaggero che ovviamente parla di questo Ioni il tridente parte da lui l'accordo raggiunto datare con l'asturiano che può liberarsi gratis e la conferma che Inzaghi cambierà il modulo di gioco l'esterno firmerà un quadrinale da un milione e mezzo in caso di mancata promozione del Malaga in Liga il 28enne potrà trattare da solo il suo cartellino Alberto Abate il giornalista che ha scritto il pezzo è sicuro di questo cambiamento di modulo ricordate abbiamo parlato molto di questa strategia tattica come elemento di discussione per la Lazio il prossimo anno ecco Alberto Abate ci offre questo spunto leggiamo un estratto del suo pezzo a differenza di Durmisi Ioni non è un esterno terzino da 352 piuttosto una verala e se l'acquisto di Adecanier 19enne di prospettiva a destra ancora non portava a pensare del tutto a una rivoluzione tattica quella di Rodriguez spinge sempre di più verso questa pista Inzaghi può tornare al 4-3-3 o anche al 4-2-3-1 concorre a titolare come l'origine sulla fascia come trequartista finalmente il tecnico avrà diverse soluzioni in tasca e così potrebbe accettare a malincuore anche un'altra partenza per Milinkovic si aspetta l'offerta giusta non sotto gli 80-90 milioni Luis Alberto può restare a patto che Lotito e Inzaghi riescano a convincerlo il presidente non vuole più giocatori demotivati lo spagnolo è stato convocato per il rinnovo con adeguamento e sta prendendo tempo magari il suo entourage sta chiudendo l'affare Ioni Nicola Lazio proprio per ottenere uno sconto con offerte da 25-30 milioni accettate non più da 50 richieste da Lotito e provare a riportarla a casa a Siviglia il suo sogno restiamo sempre sul messaggero come vedete l'argomento è sempre stato proprio quello di Luis Alberto anche per quanto riguarda il mercato ma rispunto a un nome l'articolo di Valerio Cassetta Lotito incontra Riso rispunta Petagna alternativa tricolore la Lazio pensa al made in Italy per rinforzare l'attacco se l'operazione Wesley brasiliano del Bruges classe 96 non dovesse andare in porto la caccia al vice immobile sarebbe riaperta Simone Inzaghi è stato chiaro sulle caratteristiche dei rinforzi giocatori pronti per il campionato italiano italiano scartata l'ipotesi cutrone prende quota l'idea Andrea Petagna l'attaccante 23enne reduce da una stagione positiva 16 gol con la spalla che lo prese in prestito dall'Atalanta i nerazzurri stanno pensando di riportarlo a Bergamo per la Champions ma valutano diverse ipotesi con circa 10 milioni di euro la Lazio potrebbe assicurarsi le prestazioni del giocatore seguito da Riso procuratore che sta lavorando a rinnovo di Dadino Cataldi e ha smentito un possibile arrivo di Baselli intanto osteopati e fisioterapisti della Lazio hanno approfittato della sosta per dedicarsi alla formazione continua con i corsi del professor Febbi Parolin e Capone sulla traumatologia sportiva questa era la curiosità finale di questo articolo siamo ora in arrivo per quanto riguarda altri titoli di questo 6 giugno 2019 come vedete i nomi del mercato continuano a susseguirsi noi abbiamo ovviamente molta fiducia per quanto riguarda le scelte della società però già leggiamo i vostri commenti su Facebook su Twitter e su Instagram non siete molto molto convinti dei nomi che stanno uscendo Corriere dello Sport pagina 8 con Daniele Rindone titola Lazio Ioni il piano per chiudere si insiste per Westry al centrocampo si individua in Zulì come rilancio e come rinforzo è l'austriaco dell'Underlecht ne abbiamo parlato ha anche letto la nostra storia su Piazza della Libertà su Instagram quindi sta seguendo per quanto possa capire perché ovviamente non capisce l'italiano però è consapevole dell'interesse della Lazio e tornando al Corriere dello Sport si parla ancora di Zulì è l'ideale per scusate per Di Gioni è l'ideale per il 4-3-3 ma si può muovere anche come esterno di centrocampo poi sempre il Corriere dello Sport il titolo dell'articolo di Fabrizio Patania Lazio Milinkovic riparte la giostra in Inghilterra voci sul City la Juventus tentenne e vira su Pogba ora tocca all'otito dare la svolta la società parte da una valutazione di 100 milioni ma si può chiudere a 80 poi sempre il Corriere che dedica molto spazio a Lazio per Stracoscia un mese di stop il CT Reia non lo ha convocato con l'Albania Thomas sarà pronto per il ritiro di Auronzo Inzaghi lo ha gestito e poi lo ha fermato dopo la Coppa Italia contro l'Atalanta e queste erano le pagine dedicate alla Lazio quindi la novità sul mercato è questa ipotesi di rinnovo con Luis Alberto secondo la Gazzetta e nel messaggero rispunte il nome di Petagna per l'attacco cosa ne pensate? Commentate su i post che troverete pubblicati nei nostri canali social ovviamente ci avete ascoltato grazie alle notifiche che avete sicuramente attivato nei podcast presenti sul vostro dispositivo Apple sui vostri dispositivi Android con Google Podcast e per chi invece ama la musica di qualità ci trova su Spotify ovviamente sempre nella sezione podcast cercandoci con Piazza della Libertà grazie a tutti un saluto da Cristiano Sala